Buongiorno, tensioni politiche, questione morale, scandalo Consip, una maggioranza in difficoltà, un governo gentiloni che deve fare tante cose ma non si capisce se ha la forza per reggere l'urto dei grandi impegni dell'agenda delle prossime settimane, la manovra aggiuntiva, il decreto sui voucher e poi una legge di stabilità che per l'autunno si preannuncia quasi proibitiva. Ne parliamo oggi con il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini. Buonasera Landini, benvenuto. Allora, di carne al fuoco ne abbiamo tanta, c'è una vicenda politica molto intricata sulla quale vale la pena di fare qualche valutazione, però le chiedo subito un giudizio, vorrei partire da qui, dai voucher, perché proprio ora è uscita un'agenzia che ci informa che la relatrice al disegno di legge sulla riforma di questo strumento preannuncia che la maggioranza è orientata ad andare verso una soluzione di abrogazione totale dei voucher, con il che il referendum perderebbe di significato. Che segnale è questo? Come lo giudica? Vi fidate? Oppure ancora volete andare a vedere cosa succede? Naturalmente bisognerà aspettare domani, venerdì, il giorno di approvazione del decreto legge, almeno questo è stato preannunciato. Quello che noi chiedevamo con il referendum era abrogare la normativa attuale dei voucher, quindi se, e chiedevamo anche di abrogare alcune norme in relazione agli appalti, laddove si parla dell'atteggiamento delle imprese rispetto alla questione degli appalti. Quindi se il governo, perché i quesiti sono due, pensa di fare un decreto che vada ad abrogare queste due norme e quindi va nella direzione di quello che noi chiedevamo nel referendum, io credo sia un fatto positivo, perché è l'obiettivo che noi volevamo raggiungere e dopodiché bisogna però essere certi che non ci siano poi provvedimenti di legge, quindi bisogna leggere il testo, diciamo, ancora non vi fidate perché il testo non esce. Ma è questione, siccome lì vale naturalmente quello che viene scritto, se si va verso l'abrogazione è quello che noi chiedevamo, quindi vuol dire, da un certo punto di vista, che abbiamo proprio fatto bene a fare il referendum per abrogare delle leggi sbagliate e siccome la nostra richiesta non era solo abrogazione, la CGL ha depositato in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare dove abbiamo raccolto milioni di firme in cui chiediamo di riscrivere tutto il diritto del lavoro nel nostro Paese, dove dentro a questa legge noi abbiamo proposte su come affrontare il problema degli appalti, su come affrontare anche il problema dei voucher, per ricondurre i rapporti di lavoro a quello che devono essere, quindi noi ci auguriamo che sia possibile che il Parlamento discuta della nostra legge, perché noi in quella legge chiediamo anche il ripristino estendendola a tutte le forme di lavoro dell'articolo 18 e quindi della tutela contro il licenziamento. Ecco, ricordiamo su questo che c'è anche un quesito sull'articolo 18 che la Corte non ha giudicato legge. Noi chiedevamo di estendere le tutele, lo dico perché l'articolo 18, cioè la reintegra in caso di licenziamento ingiusto e non l'indennizzo economico, è un fatto di civiltà e per noi quel tema rimane aperto, anzi se di fronte ai referendum il governo decide per evitare il referendum di abrogare le leggi, si deve sapere che noi abbiamo intenzione di continuare la battaglia perché il jobax e tutto il resto non ci ha convinto. Perché c'è una domanda di un nostro ascoltatore sull'articolo 18, però io vorrei insistere ancora un attimo sul tema dei voucher perché dato per premesso che aspettiamo il testo del decreto per valutare, però c'era una subordinata in questi ultimi tre giorni si discuteva dell'ipotesi che nel provvedimento del governo si potesse puntare, questa era la richiesta che aveva fatto anche Susanna Camusso in un'intervista al nostro giornale, ad un restringimento della sfera di operatività dei voucher soltanto alle famiglie o ai pensionati, agli studenti e non oltre questo perimetro. Secondo lei questo potrebbe essere sufficiente per scongiurare il referendum oppure appunto occorre puntare alla soluzione radicale, togliamoli di mezzo e basta? Io credo che sia necessario cancellare l'attuale norma, abrogarla, del resto era la nostra idea, poi come ho detto noi abbiamo nella Carta dei diritti universali avanzata una proposta, ci sono proprio due articoli, l'articolo 80 e l'articolo 81 in cui noi diciamo che si può regolare il lavoro subordinato occasionale, ma deve diventare appunto il lavoro subordinato occasionale, limitato da alcuni lavori molto ridotti, ad alcune fatti specie specifiche e allo stesso tempo serve che ci sia una persona che ha una posizione all'Inps, che ha una figura ed è se è occasionale non può durare più di 40 giorni all'anno e deve essere però ristretto ad alcune casistiche molto precise, non può diventare come era diventato adesso un'altra forma di lavoro che sostituisse forme di lavoro che debbano avere tutele e diritti, questo non lo può essere, quindi noi diciamo in modo molto specifico si abroghi, poi se si vuole regolamentare questa cosa noi abbiamo una proposta di legge, la Cigiele non si è limitata a dire bisogna abrogarlo, la Cigiele è già depositata in Parlamento anche come può essere regolato il lavoro subordinato occasionale, però il vostro obiettivo domani è quello dell'abrogazione totale e poi si discute. Esatto, anche perché qui non c'è stato semplicemente un abuso, c'è stato un capovolgimento, perché molte forme di lavoro sono già regolate, se uno ha un lavoro stagionale c'è il contratto a termine che può essere usato, se ha altre esigenze c'è il part time, c'è il lavoro interinale, ci sono tantissimi altri rapporti di lavoro che però nel momento che li attivi hai delle tutele, hai dei diritti, hai delle condizioni che invece il voucher non faceva, uno il voucher lo comprava in tabaccheria senza neanche sapere chi c'era dietro, non può essere, questo non può essere il sistema di regolamentare. Poi voglio fare una riflessione anche sul significato politico di questa eventuale scelta della maggioranza, però sto ancora al tema e mi rifaccio a quello che lei ha appena detto, cioè tutte le possibili forme alternative di contrattualistica rispetto ai voucher, perché su questo i nostri telespettatori e ascoltatori si sono scatenati, ci sono molte domande, gliene leggo qualcuna perché sono tutte più o meno dello stesso tenore. Allora ci scrive Andrea Ciani per esempio, buongiorno, come retribuisco la signora che una volta a settimana effettua le pulizie del mio studio? Come retribuisco la studentessa che un paio di volte al mese svolge servizio di banconiera in una pasticceria? Se la risposta è come dipendente subordinato, siamo destinati all'autodistruzione. No, questo mi sembrano follie, se c'è una signora che tutte le settimane va a pulire il suo studio per tutte le settimane, per tutto l'anno, questo lo può tranquillamente assumere con un contratto part time, con un contratto può fare quello che vuole, quello non è occasionale come lavoro, quello è un lavoro strutturale che uno fa sempre. Questo dice una volta a settimana, no? Sì, qua dice se una volta a settimana va a fare le pulizie, immagino che vuole pulito tutte le settimane il suo ufficio, il suo studio, non è che glielo pulisse una volta alla settimana all'anno, perché sennò avrebbe uno studio molto... No, una volta a settimana vuol dire tutte le settimane. Allora, io dico, quello è un classico caso in cui questa persona può essere assunta con un contratto di lavoro, può essere part time, può essere che affronti questa cosa, perché questo non è né occasionale né saltuario, così come altre forme di lavoro, io insisto, per il lavoro stagionale ci sono i contratti a termine, il part time può essere orizzontale, verticale per due giorni alla settimana, per un giorno al mese, cioè ci sono mille forme, io non sto dicendo che non debba essere affrontato, io dico che può essere regolato in un altro modo. Qual è il vizio cattivo, la solita cosa italiana? E cioè che si è trasformato in voucher un lavoro che non era né occasionale né saltuario. Altre domande, sono sempre dello stesso tenore, ci scrive Valentina, vorrei capire quali opzioni mi suggerirebbe il sindacato qualora non ci fossero più i voucher a disposizione per le famiglie. Uso i voucher perché mi incaponisco a pagare le tasse e ho voluto evitare di pagare colf e babysitter in nero, ma se eliminate i voucher cosa vi aspettate? Mi sento una cittadina onesta poco supportata dalla politica, gliene leggo un'altra e poi chiudiamo su questo. Cristina, sono una piccola commerciante farmacista che con tanti sacrifici lavora 6 giorni su 7 nel proprio negozio, per prendermi una pausa di mezza giornata devo chiamare una persona che mi sostituisca mettendola in regola con i voucher, non ho i mezzi per assumere nessuno e tanti piccoli imprenditori la pensano come me, non abolite i voucher. Io credo che qui ad esigenze reali, questo è il punto, che possono essere affrontate in modo regolare, si è inventata una cosa irregolare che era il voucher, questo è il punto, perché se noi andiamo a ricondurlo come noi pensiamo al lavoro subordinato, la proposta di legge che noi facciamo, noi parliamo di pochi casi, lavoro domestico familiare, parliamo di insegnamento privato supplementare, parliamo di piccoli lavori di giardinaggio, parliamo di assistenza domiciliare per bambini o per persone anziane, parliamoci di cose molto precise e diciamo però che se è occasionale non può avere una durata superiore a 40 giorni alla settimana e non può avere un tetto di un certo tipo, in più questa persona deve avere una posizione IMS, deve essere iscritta all'Inps, deve avere determinate tutele, questo è il lavoro occasionale, se invece ci sono altre situazioni, io penso che esiste già oggi sul mercato la possibilità di avere rapporti di lavoro, se c'è la necessità di adattare dei rapporti di lavoro che però abbiano dei diritti, delle tutele, una persona, io non ho un'obiezione a fare una discussione, ma vorrei ricordare che oggi non c'è solo il lavoro a tempo indeterminato, c'è anche il contratto termine, c'è il lavoro interinale, ci sono rapporti di lavoro part time, ci possono essere altre forme, allora se il tema è affrontarlo, io sono per affrontarlo, ma quello che io non accetto, cosa che è avvenuta in Italia, che sotto la parola voucher in realtà c'è stato non solo un abuso, ma proprio una violazione della concessione stessa. Sì, sono diventati in qualche modo il simbolo della precarizzazione del lavoro, forse anche per questo il sindacato punta all'abolizione, salvo poi riragionarne più in là. Ho ancora una curiosità io su questo, rispetto all'obiettivo iniziale che i voucher avevano, almeno nelle intenzioni del ceto politico che lo propose, peraltro era il centrosinistra se non ricordo male. All'inizio c'era nel 2003, mi pare che allora ci fosse Berlusconi al governo, però diciamo poi anche il centrosinistra lo ha allargato, no, 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 ma certo non l'ha abolito, l'ha allargato. Esatto, l'ha allargato. L'obiettivo era così arginiamo il lavoro nero, non è un tema questo? Ma non è vero. Lei dice che non sono serviti per arginare il lavoro nero? Assolutamente, nel modo più assoluto, anzi, in molti casi il voucher è servito a coprire il lavoro nero, perché bastava che arrivasse una visita ispettiva in un posto e quella persona lì che il giorno prima aveva lavorato a nero veniva denunciato che aveva cominciato a lavorare quel giorno lì e veniva coperto col voucher, in realtà non c'entra proprio nulla la lotta al lavoro nero rispetto al voucher, perché se si vuole combattere davvero il lavoro nero intanto bisogna colpire seriamente quelli che fanno lavorare in nero, perché un lavoratore per lavorare in nero ci deve essere un'impresa che lo fa lavorare in nero, quindi il problema sarebbe colpire seriamente, non con qualche multa leggera, fino anche a chiusura di aziende se fanno lavorare in nero, se si vogliono introdurre delle sanzioni e se si vogliono in questo caso il problema è fare leggi che trattino bene i comportamenti positivi delle persone, cioè noi dobbiamo mettere nelle condizioni le persone di poter onestamente fare il loro lavoro, se fanno gli imprenditori di fare gli imprenditori seri, se ci sono problemi di flessibilità o di esigenze anche stagionali, temporane, si possono tranquillamente affrontare, ma quello che non è accettabile è che il lavoratore che risponde a questa esigenza si trovi pagato meno, con meno diritti, non deve essere così, qualsiasi lavoro deve avere la stessa retribuzione, poi ci può essere una forma diversa e mi permetto di dire che da questo punto di vista, insisto, noi con la legge, perché qualcuno dice ce l'avete con qualche governo, no, la nostra proposta di legge della CGL riscrive, chiede di riscrivere tutto il diritto del lavoro dalla legge 3 del 1997 a venire ad oggi, perché noi consideriamo che questo aumento di precarietà e penso anche agli appalti, questa libertà d'azione negli appalti è gravissima e di oggi mi pare di aver letto un'indagine addirittura della Guardia di Finanza che denuncia la violazione sul sistema degli appalti e parliamo di miliardi e di milioni di persone che sono costretti a lavorare in condizioni disastrose. Senta Landini, il risvolto politico di questa vicenda, perché si è detto se il governo arriva fino al punto di abolire completamente i voucher, cede totalmente alla CGL e lo fa per una ragione di fondo, cioè perché c'è la FIFA blu di arrivare a questo benedetto referendum del 28 maggio rispetto al quale la maggioranza attuale, il PD renziano, il governo gentiloniano non possono permettersi di incassare l'ennesima sconfitta dopo quella del 4 dicembre referendum costituzionale e quindi pur di evitare questo cedono completamente alla CGL e si dimostrano totalmente subalterni. È uno schema che la convince? No, guardi, qui il problema non è adesso che cedere la CGL, io credo che fanno un atto di intelligenza, perché le richieste della CGL sono non solo cose positive, utili, civili, ma indicano anche la necessità che la competizione, la qualità lo si faccia sulle persone, sulla qualità del lavoro. Quindi noi stiamo ponendo un problema di rimettere, non solo di tutelare dei diritti, ma di rimettere al centro della discussione politica e sociale di questo Paese il fatto che le persone possono avere il diritto di lavorare e che ci sia un rilancio del sistema produttivo, industriale e sociale del nostro Paese fondato sul lavoro, sulla dignità del lavoro. E da un certo punto questo è quello che noi chiediamo e quello che noi denunciamo. Che poi dietro ci sia anche il fatto di valutazione politica che hanno valutato il rischio di perdere un secondo referendum? Onestamente, molto probabilmente sì, ma allora il punto di riflessione è un altro, e cioè uno deve prendere atto il referendum del 4 di dicembre, in cui la CGL ha fatto la sua parte, perché noi eravamo per il no, abbiamo dato indicazione di votare il no, quindi mi permetto di dire, abbiamo dato il nostro contributo, è chiaro che era un voto non solo sulla riforma, ma in modo molto chiaro, era anche un voto contro le politiche economiche e sociali che questo governo ha fatto, quindi se questo governo ne prende atto, visto che Gentiloni è Presidente del Consiglio dopo l'esito del referendum, non prima, quindi c'è stato un cambiamento, allora ci deve essere anche un cambiamento di contenuti, perché questo è il tema che io credo sia importante e lo dico, perché per noi va cambiato anche il job, ma hanno cambiato gli ammortizzatori sociali. Ecco, proprio su questo voglio farle un'altra domanda, perché intanto appunto lei diceva Gentiloni segna un cambiamento oggettivo, non soltanto come è ovvio dal punto di vista della Premiership, ma anche forse dal punto di vista dell'approccio politico a certi temi, compreso il rapporto con i corpi intermedi che con Renzi era un pochino più problematico, proprio oggi a questo proposito Gentiloni ad Avellino ha annunciato che sono stati già inviati i primi 30 mila assegni di ricollocazione cosiddetti, cioè quelli che dovrebbero andare a beneficio di coloro che hanno la Naspi, questa assicurazione per la disoccupazione già da quattro mesi, sono i primi 30 mila, è solo il 10% di quelli che dovranno arrivare e poi dice Gentiloni dobbiamo puntare a estendere a tutti le tutele sul lavoro. Allora la domanda che le faccio è, è cambiato qualcosa con Gentiloni dal vostro punto di vista? Ci sono dei segnali di discontinuità che vi fanno cambiare il giudizio rispetto al governo Renzi oppure no? Siamo in piena continuità perché si era detto è un governo fotografico. Ad oggi finora di atti concreti che hanno cambiato la situazione sui temi del lavoro non ci sono, se come sembra sul referendum decidono di abrogare le leggi, benissimo, è un atto di novità sostanziale perché riconoscono di aver fatto delle leggi sbagliate che non servono né al Paese né ai lavoratori. Noi poi chiediamo che si avvia un confronto vero su altri temi che riguarda come ho detto prima gli ammortizzatori sociali, che riguarda il cambiamento del job act, che riguarda le pensioni, che riguarda il rilancio degli investimenti. Nei prossimi mesi in questo Paese ci giochiamo partite decisive, pensi alla vicenda dell'Ilva, pensi a, in questi giorni ci sono anche le nomine, pensi alle vicende che riguardano Finmeccanica, Fincantieri, pensi a quello che può succedere a Piombino, altro elemento siderurgico, pensi al grande gruppo ST, pensi al cambiamento che oggi è nato anche nel sistema produttivo con la famosa industria 4.0 con gli investimenti, siamo ad una fase di passaggio cruciale, noi abbiamo rivendicato come metalmeccanici, quindi non solo la FIOM, ma anche insieme agli altri due sindacati, noi abbiamo richiesto esplicitamente anche al governo Gentiloni e a Gentiloni stesso la possibilità di avviare un tavolo di confronti di trattativa per una nuova politica. Avete percepito un cambio di atteggiamento oppure no? Ad oggi c'è una disponibilità, un confronto, gli atti concreti si devono misurare, rispetto a Renzi ha dato disponibilità di un confronto, lo dovremo vedere concretamente, il problema è se le politiche cambiano, quando lei mi diceva, ma vi fidate che lo fanno, voglio vedere che a questo punto se dentro all'abrogazione, no non mi sono mandato Gentiloni. No perché mi ricordo che all'epoca con Renzi, all'inizio un po' di messaggini ve li scambiavano sul cellulare, dopo alla fine non ha funzionato molto, non è servito molto. Con Gentiloni però messaggini no? No, con Gentiloni abbiamo formalmente richiesto un incontro proprio perché pezzi importanti del sistema industriale passano dal settore metalmeccanico, abbiamo chiesto un confronto, ma vorrei segnalare qui, dentro alla necessità di cambiare il job act, non c'è solo la questione dei licenziamenti all'articolo 18, siccome oggi lei mi dice che il premier era da Avellino per lanciare questo nuovo provvedimento, io vorrei qui denunciare un punto e dirlo direttamente al professor Gentiloni, c'è da cambiare il sistema degli ammortizzatori sociali, col job act, cosa sta succedendo? Che a un'impresa costa meno, ma le politiche attive non è partito nulla, quello che qui denuncio è che oggi con le leggi che sono state fatte a un'impresa costa meno licenziare che non ricorrere alla cassa integrazione e ai contratti di solidarietà, io lo dico in modo molto diretto, è una follia, quella legge lì va cambiata, noi chiediamo che si avvia un confronto, ad oggi le politiche attive per il lavoro non si stanno facendo, non ci sono le condizioni e soprattutto il punto di cambiamento anche per Gentiloni è fare ripartire gli investimenti in questo paese, senza una ripresa degli investimenti pubblici e privati, nuovi posti di lavoro non si creano, per questo dico che ci sono una serie di vicende che hanno un valore generale, vuole cambiare linea, allora si deve confrontare con i sindacati ma deve cambiare proprio il contenuto delle linee e io mi permetto di dire e dovremo valutarlo, se davvero va come sembra, che viene abrogata e che quindi c'è la possibilità di portare a caso un risultato, io credo che bisogna dare il senso di aprire una discussione, noi non abbiamo chiesto solo di abrogare queste due cose, abbiamo presentato un disegno di legge per rimettere al centro i lavori, i diritti e per ridisegnare tutto l'impianto, lo misureremo e su questo vorrei ricordare che la GGL ha organizzato una manifestazione nell'8 di aprile in Piazza del Popolo, proprio perché la nostra non è una battaglia contro i voucher o contro gli appalti, la nostra è una battaglia per rimettere al centro un'altra idea del lavoro e del paese. Senta, insisto ancora su Gentiloni perché un altro degli impegni che lo aspettano è da un lato la manovra aggiuntiva che ha chiesto l'Europa, bisogna trovare questi 3,4 miliardi forse saranno anche un po' di più perché abbiamo sforato rispetto agli impegni che avevamo sottoscritto l'anno scorso. Dall'altro lato c'è la legge di stabilità dell'autunno che sarà ancora più impegnativa, sappiamo che pendono sul nostro capo questi quasi 20 miliardi di clausole di salvaguardia, quindi aumenti automatici dell'IVA con tutto quel che ne conseguirebbe sui consumi. Su queste due cose, manovra aggiuntiva, si è parlato per esempio della possibilità di alzare le accise sui carburanti e sulle sigarette e trovare dal punto di vista dei tagli di spesa un po' di risorse con la spending review e poi soprattutto e ancora di più la legge di stabilità d'autunno, l'ipotesi è di un taglio di almeno 5 punti del cuneo fiscale, cioè le tasse e i contributi sul lavoro. Si stanno muovendo nella direzione che voi auspicate oppure no? Guardi, io credo che se si ragiona sul fisco c'è un problema che riguarda la riduzione dell'IRPEF, perché bisogna abbassare e rivedere l'IRPEF soprattutto sul lavoro dipendente e secondo me bisogna porsi il problema di una tassazione vera sui grandi patrimoni e sulle grandi rendite finanziarie, perché come è noto il problema del fisco non è semplicemente la riduzione del costo del lavoro, che è un tema che va affrontato, ma c'è un problema più generale e lo dico perché in questi anni sono stati cacciati via anche dei soldi. Quando il governo Renzi ad esempio ha detto che non si pagava più la tassa non solo sulla prima casa, ma anche su chi ne aveva due, chi ne aveva tre, credo che sia una follia perché vuol dire che tu quei miliardi che avresti potuto prendere a gente che se li poteva permettere li potevi usare da investire per combattere la precarietà e tutto il resto. Quindi voi lì sulla prima casa per le categorie più abbienti la reintrodurreste? Io assolutamente sì, io penso davvero che bisogna reintrodurre nel nostro paese il concetto della progressività, cioè come dice la nostra Costituzione, non solo chi più prende, ma chi più ha, cioè la capacità va tassata e quei soldi lì vanno investiti per creare lavoro e per redistribuire ricchezza. Però il taglio del cuneo fiscale è un po' questo, bisogna vedere come avviene, perché se la riduzione del cuneo fiscale mi riduce anche i contributi che io devo versarmi per la pensione o per la sanità, bisogna studiare come fanno la riduzione del cuneo fiscale, perché non vorrei che mi abbassano il fisco al lavoratore, ma se abbassano poi i contributi anche delle imprese sulla sanità e sulle pensioni che devono pagare per il lavoratore, perché salario indiretto è chiaro che c'è il caso che i conti non tornano, però dopodiché che esista un problema anche nel nostro paese da affrontare di riduzione del cuneo fiscale, io penso che sia una discussione, ma mi permetto se si vuole davvero fare una riforma fiscale degna di questo nome, bisogna rivedere l'IRPEF abbassando le aliquote per i livelli più bassi e alzandole di molto per i livelli più alti e soprattutto bisogna pensare, non so se la cosa migliore è una patrimoniale o altre cose, ma di una tassazione sulla rendita finanziaria e anche sui grandi patrimoni, perché lì si possono recuperare risorse. Ma ha visto che è diventata operativa questa flat tax, la tassa forfettaria da 100 mila Euro l'anno, per coloro che hanno attività all'estero e decidono di creare una residenza in Italia e far così rientrare un po' di attività economica. Io quella la trovo uno schiavo, non mi piace, la trovo proprio una logica assurda, cioè che chi ha tanti soldi può decidere quante tasse paga? No, perché siamo di fronte al fatto che al lavoratore dipendente hai una tassazione ormai che supera il 30 al 40% tra IRPEF regionale, comunale, provinciale e tutto il resto, quindi in questo modo tu introduci un elemento di tassazione diverso. Io penso che uno deve pagare in base a quello che prende a quello che è, appunto, deve essere progressiva e una logica di questa natura qui che adesso la competizione diventi, che io debbo dire agli inglesi venite qui perché vi faccio pagare un po' meno di tasse, io la trovo una sciocchezza, cioè noi dobbiamo affrontare il problema di far venire qui ad investire per la qualità, per i processi, per l'innovazione, dobbiamo cioè dare una condizione di qualità, una logica di questo genere, mi permetto di dire, può farti respirare per due minuti o per una settimana, ma non affronti i nodi di fondo, il livello, noi qual è la contraddizione che abbiamo? Che noi siamo un paese che ha un debito pubblico grandissimo, se noi ci pensiamo, perché la gente è arrabbiata anche sulla tassazione? Perché noi siamo un paese che se vai a vedere il bilancio normale sono più le entrate delle uscite, noi è vent'anni che abbiamo un bilancio dello Stato che se non ci fosse gli interessi sul debito pubblico sarebbe inattivo, noi non abbiamo, e questo è tutto il tema, e allora noi abbiamo il problema secondo me di rivedere i trattati europei, di ragionare come seriamente si abbatte il debito, penso che sia stata una sciocchezza aver introdotto il pareggio di bilancio, a fine anno in Europa si decade anche il fiscal compact, ci sarebbe la condizione di rivedere anche questa materia, io credo che questa è la cosa che deve fare un governo, deve andare a recuperare soldi per far ripartire gli investimenti e per creare lavoro davvero. Senta, è evidente che tutto quello che sta succedendo e che prima ho ridefinito e sintetizzato con il termine questione morale, rappresenta un elemento di conflitto e anche di instabilità politica per il governo e per la maggioranza, che idea si è fatto sulla vicenda Consip, quanto questo tipo di opacità che ha in qualche misura proiettato la sua ombra anche sul giglio magico renziano, può incidere sulla tenuta politica complessiva e sulla possibilità che questo governo faccia le cose che servono? Ma guardi, io credo vada anche collocata dentro il clima e la situazione in cui siamo, e cioè uno dovrebbe cogliere che quando in un paese vai a votare e quasi la metà a votare non ci va, vuol dire che c'è un livello di sfiducia verso la classe politica generalizzata che tu devi affrontare rispetto anche a dei comportamenti diversi, devi ricostruire una fiducia e quindi bisogna che chi fa politica viva come viva la gente normale, non in condizioni diverse e che sia in grado anche nei comportamenti che metti in campo di rispondere a questo problema. Io credo che ci sia questo elemento di fondo, dopo io non sono un giudice, non sono in grado di poter dire, di poter sapere, quindi non sono in grado di sapere, vedremo le indagini come vanno, di sicuro ragiono sul fatto che Lotti come altri sanno loro quello che è, allora io devo dire che uno dovrebbe anche valutare concretamente quelli sono gli atti che ognuno fa, lui sa cosa ha fatto e cosa non ha fatto. Ma si sarebbe dovuto dimettere secondo lei? Guardi, non sono quello che chiede le dimissioni a uno o l'altro, lui sa perfettamente quello che ha fatto, se ha fatto o non ha fatto, quindi innanzitutto deve rispondere alla sua coscienza, in più essendo un politico deve sapere che tipo di ragionamento generale viene fatto, io mi limito semplicemente ad osservare che in questi anni proprio quell'area lì non ha sempre avuto lo stesso atteggiamento, perché ricordo in alcuni momenti quando ci sono stati altri al governo e loro non erano al governo, erano in tutti i talk show di questo Paese a dichiarare che di fronte anche a solo una minaccia si sarebbero dovuti mettere, ricordo la Cancellieri, ricordo altre situazioni, ecco quando la gente vede che le persone dicono cose diverse a seconda del ruolo in cui hanno, questo fa decadere la fiducia, io penso che ci voglia una coerenza, penso non solo che chi fa politica deve vivere nelle condizioni economiche materiali delle persone normali e quando questo non avviene è un problema molto serio, perché uno non può arricchirsi facendo politica, dall'altra parte penso che ci voglia una coerenza e se c'è una cosa che ho imparato in Italia la gente, la memoria ce l'ha, le cose se le ricorda e allora da questo punto di vista penso che la coerenza in uno che fa politica secondo me è uno dei punti di fondo che deve rispondere perlomeno alla sua coscienza. Dal punto di vista della tenuta complessiva della maggioranza un altro fattore di vischiosità chiamiamolo così è la diaspora che si è creata nel Partito Democratico ed è un tema che in qualche misura vi riguarda perché anche lei è stato animatore di un progetto, dopo le chiederò che fine ha fatto la coalizione sociale, però Ernesto da Sassuolo le fa una domanda che riguarda proprio la scissione del PD, Carolandini condivido molte delle sue battaglie, credo però che l'ennesima scissione a sinistra e l'ennesima formazione politica in Parlamento non aiutino la causa dei lavoratori, lei cosa ne pensa? Cioè questa polverizzazione della rappresentanza politica a sinistra alla fine effettivamente o proietta sul sindacato la solita funzione di supplenza anche di tipo tra virgolette politico o se no può essere un elemento di indebolimento del fronte politico al quale in qualche misura il mondo del lavoro si rifà, almeno così è stato fino a qualche anno fa. Io percepisco questo, lo dico da sindacalista poi faccio anche un ragionamento alla domanda esplicita che mi è stata fatta, io percepisco oggi nel mondo del lavoro tra le persone che lavorano una domanda di unità, anche di unità sindacale, perché si rendono conto che la divisione, la frammentazione del mondo del lavoro ha prodotto un peggioramento secco, la gente sta peggio e queste divisioni che ci sono state anche dentro il sindacato la gente ha visto che alla fine ha meno diritti di prima. Lo dico perché noi ad esempio come metalmeccanici da poco e credo in controtendenza dopo anni di anche divisione oltre abbiamo fatto un contratto nazionale unitario approvato dall'80% dei lavoratori, sfido qualsiasi forza politica che abbia l'80% del consenso dei cittadini per cui dice di fare politica e percepisco che questa è una domanda nel Paese molto forte. Questo credo che sia un punto che deve venire avanti, è una delle ragioni per cui secondo me Renzi ha perso anche il suo referendum sulla Costituzione, perché in questa fase il Paese ha bisogno di unirsi, non di dividersi, ha bisogno di trovare soluzioni ai problemi, la gente ha bisogno di concretezza, che il problema che ha qualcuno se ne occupi di dire una soluzione, sia in grado di sentirsi rappresentato dalla politica. Quindi la scissione è stata un danno. Dopodiché, da un certo punto di vista, però il punto che vedo è, perché si è aperta quella discussione? Questo è il punto. Tutta questa discussione non è avvenuta a caso, è avvenuta su sette politiche che sono state fatte. Tutto questo è avvenuto perché il referendum, perché i cittadini italiani sono andati a votare e hanno detto di no alle politiche del governo. Ora il punto che io vedo è cambiano o non cambiano le politiche del governo? Io trovo da questo punto di vista legittimo, io non ho nessuna tessera di partito, sono iscritto alla GGL e all'Associazione Nazionale dei Partigiani, in memoria anche di mio padre che è stato partigiano, perché credo che i valori della Costituzione e della Resistenza siano valori importanti da difendere. Quindi non sono parte della discussione politica e in più penso che il sindacato debba avere un'autonomia, avere le sue proposte, ma avere un'autonomia dal quadro politica. Tuttavia, io guardo la discussione, perché sì? Cos'è che ha determinato? Sono proprio le sette di politiche economiche e sociali che sono state fatte. Quindi, dal mio punto di vista, io penso che sia importante che le questioni del lavoro tornino ad essere il centro della discussione. Perché se uno ragiona perché si sta dividendo il senso, perché si è indebolito il governo Renzi? Perché a un certo punto hanno smesso di rappresentare le persone che lavorano. Cioè, in un paese dove la maggioranza delle persone lavorano o cercano lavoro, mai come adesso non sono rappresentate. In questi anni sono stati rappresentati i valori del mercato, i valori della finanza, la logica del profitto e invece la persona, i diritti della persona sono stati cancellati. Il fatto che noi diciamo che la nostra Costituzione è fondata sul lavoro, oggi noi potremmo tranquillamente dire che siamo fondati sullo sfruttamento del lavoro. Renzi l'ha detto all'incorso, ha ricordato l'articolo 1 della Costituzione. Sì, ma se l'ha scordato per lui quello che ha fatto il Job Act e quello che ha cancellato l'articolo 18... Lui dice che il Job Act è la legge più di sinistra che sia stata mai fatta in Italia. Invece sia la cosa peggiore che mai è stata fatta in Italia. Le faccio un esempio. Perché è importante l'articolo 18 e va esteso a tutti? Perché dice che se una persona viene licenziata senza giusta causa, ha diritto a essere reintegrata. La legge attuale non tutela la persona. La legge attuale dice che un imprenditore se licenzia senza giusta... Sì, ma vuol dire che tu hai una legge che in un qualche modo copri comportamenti peggiori degli imprenditori. Perché per fortuna gli imprenditori non sono tutti uguali. Guardi che questo è un bel cambiamento culturale. Non c'entra nulla né con la nostra Costituzione né con il lavoro. E quindi da questo punto di vista non è che dico che è utile la divisione. Io dico che è utile che per ricostruire un'unità si torni a mettere al centro le questioni del lavoro, delle persone e la rappresentanza politica del lavoro che in questi anni non c'è stata. Abbiamo pochissimo tempo però. Renzo 65 le fa, che non è Napalm 51, che di Crozza. Le fa un'altra domanda che riguarda proprio però l'articolo 18. Interessante perché io ricordo che anche quella fu a un certo punto uno degli argomenti che voi usaste contro il Jobs Act. Vorrei sapere, chiede Renzo, a che punto è il ricorso in sede europea relativo all'articolo 18 e quale siano le sue previsioni. Perché c'era stato un ricorso, no? Non lo ricordo male. C'era stata la segretaria generale della GGL Camusso che di fronte alla Corte Costituzionale che ha respinto la nostra richiesta di referendum per abrogare Giovanni e le norme, ha detto che avremmo valutato anche i possibili spazi di ricorso alla Commissione europea per affrontare questa cosa. Ad oggi mi pare che non sia stato fatto… Non si vedono gli spazi o si è preferito… Credo si stia approfondendo, ma è chiaro che anche un ricorso alla Corte europea non è in grado di riportare all'articolo 18. Allora il punto però che io vedo è questa, è la risposta, è questa. Per noi quello è un tema ancora aperto e io mi limito semplicemente ad osservare che se attraverso il referendum riusciamo a portare a casa il risultato di cancellare i voucher e anche sugli appalti che sono ancora più importanti dei voucher, perché ci sono milioni di persone che vivono in aziende in appalto e che corrono il rischio di non aver tutelato i suoi diritti, quindi se cambiano anche la legge sugli appalti, in modo che non ci sia il referendum, sono due fatti importanti, ma cosa mi fa riferire a me? La scelta che noi a un certo punto come CGL abbiamo fatto, che era inutile continuare a fare se operi generali con un governo che metteva la fiducia e andava avanti, ma di ricorrere ai referendum è una cosa nuova, la CGL in cent'anni di storia non l'ha mai fatto, perché mai abbiamo vissuto una situazione come quella di questi anni in cui il governo faceva le leggi senza discutere con nessuno, io dico che questo dimostra che è stata giusta la scelta che abbiamo fatto e siccome noi abbiamo depositato in Parlamento anche una legge di iniziativa popolare, se questo risultato si realizzerà e lo vedremo, aspetto le leggi, voglio essere certo che non ci siano scherzi di nessun genere, perché altrimenti ci sono i referendum e agiamo i referendum, non ci devono essere furbizie su questa direzione, ma vuol dire allora che noi dovremo anche riflettere e ragionare come la battaglia per riconquistare l'articolo 18, non come era prima, per tutti, noi vogliamo un nuovo statuto dei diritti di tutte le forme di lavoro, anche del lavoro autonomo. Deve esserci l'Election Day, io presumo che per voi sarebbe la soluzione ottimale, perché è la terza del pericolo che non si raggiungesse ancora. Ma credo che anche in questo Gentiloni farebbe una cosa solo che intelligente, perché vuol dire risparmiare soldi e in questa fase ce n'è bisogno, risparmiare anche 200-300 milioni, solo al limite per metterli alla lotta contro la povertà o per altre cose, sarebbe un atto di buonsenso, secondo sarebbe anche un atto di buonsenso per mettere ai cittadini di tranquillamente votare, perché la democrazia è un esercizio importante, io ricordo che uno degli errori che secondo me ha fatto Renzi, non solo sul referendum costituzionale, ma penso al referendum delle trivelle, quando un Presidente del Consiglio o addirittura cariche anche più alte arrivano a invitare i cittadini a non andare a votare… Sono errori clamorosi, perché la democrazia, la partecipazione delle persone è il bene più prezioso che noi possiamo avere. Il voto in onda in questo senso è un'indicazione interessante, ha aumentato l'82% e si dice è stata arginata l'onda populista. È aumentata la partecipazione, certo, poi vedo anche nell'articolazione del voto, conosco poco quel mondo, ma vedo dall'esterno che è anche una serie di forze, penso al giovane dei veri, non c'è stato semplicemente non hanno votato un personaggio che si era caratterizzato per logiche un po' razziali, usiamo questo termine, e con logiche pericolose, ma a me sembra che ci sia un voto di chi chiede oggi un cambiamento e che pone anche dei problemi. Però sono crollati i socialdemocratici, questo che segnale può essere per l'Italia, per la Francia, per la Germania e poi per l'Italia? Questo è un problema generale, i socialdemocratici in Europa in questi anni hanno fatto, che differenza c'era tra le politiche che hanno fatto i socialdemocratici e gli altri, Renzi che dice che la cosa più di sinistra che ha fatto è cancellare l'articolo 18, capisce che sta dicendo una semenza totale? Perché se quando un governo che si dice di sinistra fa le stesse cose o peggio di un governo di destra, un lavoratore se è precario quando c'è il governo di destra e poi è precario quando... Precario di salutare l'originale piuttosto che la brutta... Ma soprattutto non vede la differenza, c'è il rischio che non c'è più la differenza, cioè se io sono precario con un governo di destra, poi va un governo di sinistra e continuo a essere precario, per me non è cambiato nulla, quindi o le parole tornano ad avere un significato e secondo me anche la cosiddetta socialdemocrazia deve cambiare radicalmente le proprie politiche o torna ad essere al centro i lavori, i diritti delle persone, un'altra idea di sviluppo e un'altra idea di rapporto tra l'impresa e il lavoro che però rimetta al centro la persona, allora io credo che questa è la domanda di cambiamento a cui uno deve affrontare, sapendo che c'è anche un problema di rapporto con i migranti, con l'integrazione, di ricostruzione di un'Europa, ma se la socialdemocrazia dice o fa le stesse cose della destra, è chiaro che da questo punto di vista si ammazza con le sue mani, questo a me sembra... Le chiedo l'ultima cosa, l'avevo accennata prima, lei è stato anche a un certo momento al centro di un progetto che sembrava avere un punto d'arrivo anche politico, la coalizione sociale, che fine ha fatto, l'ha archiviato, lo ha riconvertito, in che modo? Guardi, noi quando abbiamo lanciato il posto di coalizione sociale era proprio il momento in cui si discuteva anche con la CGL di lanciare la campagna del referendum, di fare l'iniziativa, la nostra idea, poi l'ho sbagliata io, non sono stato bravo a chiarirla, noi non abbiamo mai pensato che il nostro compito era costruire una nuova forza politica, per noi la coalizione sociale è una domanda di unità sociale che va ricostruita e noi ci siamo detti in una fase in cui il governo fa leggi sulla scuola, leggi sul lavoro che ci fanno tornare indietro di 50 anni, noi abbiamo bisogno di ricostruire quell'unità sociale tra lavoratori, giovani, precari, pensionati che rimetta al centro un'altra idea sociale e la battaglia dei referendum abbiamo visto è stata una di quelle cose che ha messo al centro la Costituzione, mi pare di notare tra l'altro, fermo restando che la nostra era una proposta di riunificazione innanzitutto del mondo del lavoro e di unire tutte le forme di lavoro, ma mi pare di capire che oggi tutti quelli che stanno discutendo di politica, di nuove forze, di movimenti che creano, guarda caso tutti stanno dicendo che bisogna ripartire dal basso, bisogna ripartire dal mettere le persone assieme, bisogna ripartire dalle associazioni, bisogna ripartire dal volontariato, allora io mi limito semplicemente ad osservare che secondo me nel momento che noi abbiamo avanzato quell'idea, forse anche non essendo stati bravi e mi assumo io la responsabilità, non essendo stato anche personalmente bravo a spiegare quello che si voleva fare, mi sembra però che la domanda da cui eravamo partiti, di unire il Paese e di unire il mondo del lavoro in realtà è la questione che è sotto gli occhi di tutti, a cui se non viene data una risposta non solo sindacale ma politica, si rischia di andare a sbattere perché la gente non ti segue. Comunque chiudiamo come avevamo aperto, perché questa è la home page di Repubblica.it, in questo momento la maggioranza, due punti, i voucher saranno aboliti, tra virgolette, quindi avete vinto? Adesso dobbiamo vedere che aboliscano anche quello sugli appalti, il referendum su due. Non vi basta mai però, se finisce così per voi è già un risultato enorme. Questo è un risultato enorme, è quello che chiedevamo, poi vediamo, insisto, qual è la legge, ma insisto, noi c'era il primo tempo che erano i voucher, il secondo tempo che erano gli appalti, quindi siccome è noto le partite finiscono al novantesimo, quindi a questo punto, aspettiamelo, credo che sia... Sarà previsto un periodo di transizione per i buoni in circolazione. Vedremo, ok, se è così io credo che sia quello che noi chiedevamo, posso tranquillamente dire sì, se è così è un buon risultato, vediamo cosa viene fatto, insisto c'è anche il problema degli appalti che, insisto, riguarda milioni di persone. Modificare la legge sugli appalti riguarda più imprese e più lavoratori che non i voucher, vorrei che fosse chiaro. E se ci pensiamo, la Guardia di Finanza che oggi dice che attraverso gli appalti c'è corruzione, guardi che quello è un punto di fondo a proposito della qualità e della competitività del Paese, perché il sistema degli appalti, così come oggi in Italia, non solo riduce i diritti di chi lavora, ma è uno dei sistemi che permette alla malavita organizzata di controllare pezzi interi dell'economia reale. Allora molte volte i grandi gruppi non vengono in Italia non perché c'era l'articolo 18, ma perché c'era la corruzione, perché c'era il pizzo, perché c'era una logica. Allora combattiamo questa logica ed è un primo risultato importante, vuol dire che come CGL abbiamo proprio fatto bene a raccogliere firme, a fare il referendum e dire che quando non c'è il consenso delle persone bisogna ridare la parola alle persone. Domani leggeremo sicuramente qualche commento, qualche riflessione, che dirà siamo veramente tornati alla Prima Repubblica, perché i governi sono subalterni al sindacato. No, in questo caso semplicemente è un atto, mi permetto di dire, di intelligenza e di buonsenso, perché le cose prima ancora di essere subalterne c'è il buonsenso e quando uno capisce di aver fatto un errore, se torna indietro, vuol dire che è uno che attenta ad accogliere. Che gentiloni a buonsenso e Renzi non ce l'aveva. Beh, Renzi in una certa fase, mi permetto di dire, pensava, si era montato un po' la testa dalle europee, pensava con il 40% di poter fare quello che voleva, si è reso conto con il referendum che la maggioranza del paese non l'aveva seguito e che se uno vuole governare, che è la cosa più complicata, io non l'ho mai fatto, io ho fatto solo il sindacalista e per me è già difficile, ma governare un paese penso che sia la cosa più difficile in assoluto, ma quando una situazione è complessa come adesso, uno non può pensare che da solo fa tutto, ha bisogno quando le situazioni sono complesse di ascoltare, di mediare, di rappresentare tutti gli interessi, oggi c'è bisogno di un'alleanza in questo paese tra il lavoro e l'impresa, non di uno scontro e se la politica non capisce questa cosa, secondo me va a sbattere. Va bene, comunque avete vinto il primo tempo, Landini incontentabile vuole vincere anche il secondo tempo sugli appalti, però intanto questo è un dato politicamente molto significativo. In questa fase non è sufficiente partecipare, bisogna vincere. Bisogna vincere. Va bene, grazie Landini, in bocca al lupo e buona serata a tutti.